Bentrovate cari amiche e bentrovati cari amici per un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News. Quest'oggi sono con Gaetano Dalba, uno dei titolari della Rubino Case, nonché responsabile della sede di Monopoli. E c'è subito una notizia che riguarda il gruppo Rubino e c'è la nuova sede che è stata aperta a Monopoli, in via Bixio 183. Ciao Gaetano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come mai questa necessità di cambiare sede? Beh, insomma, per offrire ovviamente innanzitutto alla nostra clientela una location più confortevole, con maggiore visibilità, perché abbiamo in questa nuova sede, abbiamo quattro vetrine, quindi per l'esposizione dei nostri cartelli vendesi, insomma. Tutta la superficie si sviluppa su un unico piano, quindi c'è un accesso più facile, anche per i portatori di Andy, perché nell'ufficio precedente, per poter accedere alle stanze, era necessario salire una scala non certamente comoda. Quanti metri quadri ha questo ufficio? Questo ufficio è 100 metri quadri. Quindi, insomma, abbastanza un ufficio di rappresentanza importante. Sì, sì, importante. Abbiamo gli spazi sia per accogliere la clientela con un back office comodissimo, con un tavolo quadrato ampio, e poi abbiamo il front office, anche questo comodissimo, insomma, con la nostra Alessandra Mancini, che accoglie i nostri clienti, la nostra coordinatrice, e poi abbiamo anche delle quattro postazioni operative per i nostri consulenti. Quanti sono i consulenti della sede? I consulenti sono quattro, più responsabili, insomma, più sono io qui che presenzio, insomma, tutti i giorni. Che tipo di mercato servite principalmente? Residenziale, industriale, commerciale? Il mercato che serviamo principalmente è il residenziale, insomma. Un residenziale che è sempre quello più richiesto. Ovviamente poi c'è anche il terziario, c'è il commerciale, però prevalentemente noi ci occupiamo del residenziale, perché la richiesta maggiore è quella, insomma, e quindi il nostro core business è il residenziale. Certo. Gaetano, siamo in una città che è simbolo dell'esplosione turistica della Puglia e della terra di Bari per eccellenza. Monopoli è una città bellissima che offre tante bellezze, sia paesaggistiche, ma non solo, anche storiche e culturali. Mi chiedo e ti chiedo, nel corso dell'anno, siccome sappiamo anche da nostre precedenti chiacchierate, che è una città molto ambita dagli stranieri, nel corso dell'anno ci sono dei bicchi e delle flessioni sul mercato immobiliare? Cioè, a ridosso dell'estate corrono tutti a comprare casa a Monopoli e poi magari se ne dimenticano? Lo dico perché stiamo registrando, insomma, siamo agli inizi di novembre. Monopoli è una città frequentata tutto l'anno dai turisti. Chiaramente ci sono i mesi, diciamo, di picco dove c'è maggiore affluenza. E' chiaro che è giugno, luglio e agosto. Però il turista si intrattiene anche fino a gennaio, trascorre qui le festività natalizie. Il numero delle compravendite è costante, tranne poco prima dell'estate, nei mesi da febbraio fino a maggio, abbiamo un incremento della domanda e quelli sono i tre mesi. Perché è chiaro che tutti cercano di acquistare l'immobile a poter poi utilizzare nei periodi estivi. E la finalità dell'utilizzo di questi immobili è principalmente, come dire, per vacanza o per investimento, per realizzare una struttura ricettiva? Principalmente per l'investimento. La gente sta investendo in strutture ricettive, soprattutto nel centro storico. E poi si allarga, insomma, nel Murattiano o anche nelle nostre campagne. Noi abbiamo 99 contrade, tutte belle, tutte servite, chi più, chi meno, ma servite. E quindi c'è con la casa in pietra. Che mi vengono in mente possono essere molto utili per i cosiddetti nomadi digitali, cioè per coloro che lavorano. Certamente, ma sono utili anche perché i campani si vivono tranquillamente. Poi sono collegati bene, ci sono i servizi, certamente, i nomi digitali. E' il loro paradiso terrestre per loro. Per chiudere la nostra chiacchierata guardiamo l'altra faccia della medaglia. Che cosa succede ai residenti di Monopoli? Stanno continuando ad acquistare, si stanno spostando fuori o addirittura a qualche altra parte? E' effettivamente i residenti stanno soffrendo in questo momento, soffrono il costo della vita che ha aumentato. Insomma, anche l'acquisto degli ortaggi ora costa di più. Però si spostano perché noi abbiamo nelle zone a pochi chilometri, abbiamo delle realtà come Casteldana dove il costo della vita è più basso. Però abbiamo ragione perché chiaramente c'è meno affluenza di turismo, quindi è una città un po' più tranquilla, più nell'entroter, più a pochi chilometri. Quindi il Casteldana e il Monopolitano emigra anche per l'acquisto, soprattutto quel Monopolitano che ha un potere d'acquisto leggermente al di sotto di quelli che sono i prezzi. Del resto anche intorno a Bari si sono sviluppati alcuni comuni, penso a noi Cattaro, Valenzano, che sono cresciuti con i baresi che andavano fuori. Sì, è un fenomeno, sono fisiologiche, si crea un po'. Soprattutto giovani coppie, magari all'inizio. Sì, anche Bari, a prescindere dal turismo, ha delle quotazioni che sono abbastanza sostenute e quindi è chiaro che chi ha un potere d'acquisto più basso emigra nella provincia, nei paesi a ridosso della città. Quindi, per chiudere davvero la nostra chiacchierata, consiglieresti questo come momento per investire nell'immobiliare a Monopoli? Sì, senza ombra di dubbio, investire oggi a Monopoli è il momento più giusto, perché i prezzi sono ancora in salita e continueranno a salire, ma per un'ovvia legge di mercato, insomma, perché abbiamo una domanda che continua a crescere. Molte grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi, buongiorno.